Ehi ragazzi, sono Dismi64 e questa volta sono qui per iniziare un nuovo Let's Play. Questo Let's Play parlerà di un gioco uscito un anno fa in occasione delle Olimpiadi di L'Ontario 2012, Mario Sonic e giochi olimpici. Bene, in questo Let's Play mostrerò uno per uno gli eventi. Oggi cominceremo dai 100 metri e ancora non ho deciso se farli insieme o no. Cioè tutti quelli di una psicologia oppure... No, non è mia. Ah! Dai, muovete. Ma che... No, non è mia. Ah, 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 no, non è mia. Può chiamare il nome e quali erano opzioni, o per i miei non ho farmi vedere. Sì, benvenuti nella messa di Gimbrugge... Ti vi aggora molte informazioni contro ma spesso la posta. Alla stita singola. Ok. Anche l'evento per giocare al piatto di sigla puoi capire con uno o contro i suoi amici. Allora, vabbè farò soltanto i 100 metri. Sì, farò video cortissimi Per me no, non dovete saltare parti del video o cose del genere Io userò il migliore per la specialità Cioè sono anche in questo caso Non mi metterò è difficile perché tanto Guarda, è dietro, sì La telecamera Vabbè, dai Questi video dureranno ben poco, ben poco Rimuovere il controller complementare esatto perché avrò un crottacatton Nanncia Ovviamente dovete scuotere su e giù il telecomando Ok Fatto Bene Questa era una corsa semplice Cioè scuotendo e basta Bene E nuovo record, grazie 9-1 Bene, la prima volta vi farò vedere anche la cerimonia di prevenzione Medaglia Duro Rosso Tegas Medaglia accento Ah beh Era quasi scontato Medaglia Duro Sonic It's All About Speed Ok Bene, giochiamo ancora Oh sfida é completata Oh sfida é completata I graffi e vinci Parlerò anche di quello Ok, ho deciso di rifarlo Perché adesso devo farvi La partenza E l'arrivo in scatto Quanto sentite una vibrazione del telecomando? No, ho pure sbagliato Vabbè Quando sentite una vibrazione del telecomando Potete Ah Possiamo rigiocarlo Perché non è quello che volevo farvi vedere Ai vostri posti In posizione No Voglio farvi vedere La partenza Ai vostri posti In posizione Eeeh che cavolo Non mi viene Ai vostri posti In posizione Aspetta eh Mi ricordo più In posizione Ah ok A seconda vibrazione del telecomando Dove non tirare E ok Se fate lo scatto verso la fine E poi premete B per una spalciata finale Avrete la super spalciata come la chiamo io Ed è questa Bene E visto che il tempo si è abbassato Anche per il momento Infatti vi ha dato anche il consiglio Ok Questo video Credo di chiuderlo qui Ancora la stessa Stessa cosa Andrò sulla selezione del vento Ed è lo sprint di velo 1 Non ho intenzione di completare tutte le sfide Intenzione solo di mostrarvi Un po' i Gli eventi Bene Questo episodio Finisce qui E ciao a tutti Grazie per avermi seguito Adios Grazie 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 Grazie.